E quindi c'è saldo, non le serve la gonna, e ma è in saldo, cioè quando è che troverò una gonna a 5 euro? E me la prendo adesso, ma non ti entra, non importa, mi entrerà, sono 5 euro, cioè una cosa incredibile, una volta, cioè non potete capire, c'ero io, pastore Diana e pastore Giulie, siamo andate a registrare uno dei nostri primi dischi negli Stati Uniti, e quindi a un certo punto ne parliamo, avevamo un giorno libero e diciamo dove andiamo? E abbiamo deciso per il Messico, perché è così, volevamo passare alla frontiera del Messico, nel frattempo andavamo a Las Vegas, che era vicino, quindi prendiamo questa macchina, dai andiamo, a un certo punto passiamo, e c'era scritto tipo 0,99 cents, sapete che ci sono i negozi in America, no? Che tipo 0,99, noi non conoscevamo ancora, non frequentavamo tanto l'America, ma sentiamo un urlo in macchina, 9,9 cents, era il pastore Diana, che gridava, cioè dall'altra parte della strada, noi tranquilli, andiamo in Messico, a un certo punto sentiamo, 9,9 cents, e noi guardiamo e lei dice, voi non sapete, ci sono questi negozi in America, tutto a 99,9 centesimi, e noi andiamo! E ragazzi, mi si è rotta la colla, e comunque ragazzi non potete capire, andiamo! Cioè noi abbiamo comprato tipo un martello, cioè io ho comprato un martello, perché costava 99,9 centesimi, e mi hanno guardato, e mi hanno detto, ma compri un martello a Las Vegas, e dico, va bene, 99 cents, io mi servirà prima o poi un martello!